Grazie Presidente e Gentile Commissario, cari colleghi. In Italia registriamo 1.200 morti sul lavoro all'anno, in media a tre persone al giorno, una vera mattanza quotidiana. E queste perdite si sommano a 8.000 morti all'anno per esposizioni a sostanze calcerogene sul posto di lavoro, che avvengono nel silenzio e nell'indifferenza più assoluta da parte di istituzioni, medie e società. Almeno il 5% di questi tumori maligni è dovuto all'esposizioni sul posto di lavoro a sostanze calcerogene. Solo il 20% di questi tumori viene individuato e riconosciuto come tale, con l'effetto di distruggere non soltanto la vita di chi ne è affetto, ma anche delle loro famiglie, spesso completamente abbandonate a loro stesse. L'accordo che ci apprestiamo a votare rafforza i livelli di protezione dalle sostanze calcerogene al fine di proteggere i lavoratori e prevenire la formazione dei tumori. E finalmente dico che lo facciamo con un approccio diverso, perché dalla pandemia abbiamo imparato che la salute non può essere considerata un costo, ma un investimento fondamentale per il benessere individuale e il bene comune. Allora mai, come in questa circostanza, la giustizia sociale si fonda con il diritto inalienabile alla salute e alla dignità, premessa indispensabile per una ripresa davvero equa e sostenibile che non lascia indietro nessuno. Grazie. 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 Grazie.